Uomo, lanciate i palazzini al cielo di Salerno, scrivendo il vostro desiderio, eccoli che volano tutti verso Piazza della Libertà, eccoli là, guardate, sembrano tanti cuori nel cielo di Salerno, come se vorrestano dire quando vogliamo finire, qualcuno avrà pensato, eccoli in lato, ogni palazzino di Salerno, c'è un cammino attaccato al palazzino di Salerno, questa è una cosa, signora!